Si svolgeranno venerdì pomeriggio alle ore 16 presso la Basilica Cattedrale di Trani i funerali dell'Arcivescovo Giovan Battista Picchieri, deceduto mercoledì mattina a causa di un malore. La celebrazione sarà ufficiata dal Cardinale De Giorgi. Giovedì mattina la Salma dell'Arcivescovo è stata traslata nella parrocchia di San Giovanni Battista e vi resterà fino alle ore 13 di venerdì, quando il clero si riunirà per celebrare l'ora media. Seguirà poi il trasporto in cattedrale per il rito funebre. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha già annunciato la giornata di lutto cittadino per il sonno giorno delle sequie e bandiera a mezz'asta a Palazzo di Città.